Bentornati su YouCapital24 e soprattutto bentornati su CryptoWorld, il nostro programma dove esaminiamo la situazione delle principali criptovalute e quest'oggi per fallo ci colleghiamo subito con Simone Ridolfi, Head of Digital Innovation all'Automatica Group. Buongiorno Simone. Buongiorno a tutti, ciao Giulia. Grazie per essere con noi Simone nella nostra mattinata. Io come, se sei d'accordo, come sempre inizierei andando a vedere prima a livello tecnico come è iniziata questa settimana per le principali criptovalute e poi andiamo a vedere i market mover. Sì, allora questa settimana è una settimana negativa per le cripto in generale e per quanto riguarda Bitcoin abbiamo visto uno scivolamento del 3,5% questa settimana, oggi Bitcoin oscilla intorno ai 68.700-800 dollari e mentre Ethereum ha perso addirittura un 7% questa settimana e oscilla oggi intorno ai 2.400 dollari. Questa è una settimana abbastanza negativa soprattutto in vista delle elezioni americane, per cui sono molto cauti i trader in questo momento, qualcuno profetizza un'altalena possibile del 10% sia in negativo sia in positivo in base a come andranno le elezioni, quindi ovviamente c'è attesa. Un altro indice che ci fa capire che la liquidità in questo momento è in attesa è gli investimenti in opzioni su Bitcoin, sono molto bassi in questi giorni, frutto del fatto che appunto il mercato prevede che non ci saranno grossi scostamenti fino a proprio oggi in cui siamo un po' nei prossimi giorni, nelle prossime ore scopriremo come sta andando e come andrà l'elezione americana. Confronto tra le due criptoalude, Bitcoin e Ethereum, in realtà da non fare soltanto su questa settimana, ma c'è da dire anche che pochi giorni fa Bitcoin ha raggiunto il suo massimo storico, superando i 72.000 dollari, mentre Ethereum è molto lontano da questo massimo che ha toccato superando i 4.200 dollari quando c'è stato il lancio degli ETF su Ethereum, quindi in realtà è ancora sotto del 40% rispetto a questi massimi, quindi se questa settimana può sembrare simile in realtà il trend globale, ma ne parlavamo già diverse puntate fa, sta andando molto a favore di Bitcoin. Questo si ricalca anche dalla dominance del Bitcoin, cioè quanto Bitcoin è preponderante nel mercato cripto rispetto alle altre, in questo momento ai massimi, è intorno al 60%, frutto del fatto che evidentemente gli investitori stanno puntando molto di più su Bitcoin rispetto alle altre criptovalute che effettivamente come Ethereum stanno arrancando dietro e non stanno facendo né questa crescita e né sembrerebbe sempre proprio pronti a un salto anche dopo le elezioni americane. Forse ci si aspetta e si spera un tipo di catalizzatore diverso che non sia questa delle elezioni, che sembra essere molto intorno a Bitcoin e basta. A proposito di Bitcoin, Simone, prima di andare a vedere i market mover più importanti della settimana, volevo fare una considerazione con te perché siamo vicino alla riunione della Fed, che ricordiamo è una stessa telespettatoria che sarà giovedì il 7 novembre, nella quale insomma gli esperti si aspettano un nuovo taglio alle tasse di interesse. E sappiamo che una politica monetaria espansiva solitamente è un evento favorevole per gli asset un pochino più rischiosi come le criptovalute. In più siamo in un anno in cui c'è stato anche l'alving, lo ricordo lo scorso aprile, quindi un dimezzamento dei Bitcoin prodotti ogni 10 minuti e a livello statistico quando c'è un anno di halving spesso c'è un rally che coinvolge la fine dell'anno. Unito a come dicevo prima a una politica monetaria che finalmente sia in America che in Europa sta diventando più espansiva, potrebbe essere insomma un buon supporto per vedere gli ultimi mesi, ormai siamo a novembre di quest'anno con performance ancora più positive per le criptovalute? Sicuramente sì, di base e comunque a prescindere dalle elezioni americane che in questo momento hanno effetti semmai di attesa, ma a prescindere da questo ricordiamoci che appunto pochi giorni fa c'è stato un massimo storico di Bitcoin, sicuramente sì, questo è stato un anno positivo e continuerà ad essere probabilmente un anno positivo, quello che ci si aspetta potrebbe essere un'accelerazione o una frenata nei prossimi giorni in base all'esito delle elezioni, ma nel trend generale probabilmente ci sarà comunque una forte crescita che coinvolgerà tutto il 2025. È tutta quanto è una questione di poi velocità della curva magari, però ci sarà sicuramente il taglio dei tassi di interesse è ovviamente importantissimo, ma ovviamente è importante anche che ci sia una politica, soprattutto statunitense, per ovvi motivi a favorevole sulle criptovalute, in realtà da quello che sembrerebbe anche il Partito Democratico comincia a schierarsi a favore, quindi non ci aspettiamo grossi freni, però è ovvio che come news di mercato, come catalizzatore e acceleratore istantaneo la vittoria di Trump porterebbe quella marcia in più, ma in generale su tutto quanto il rally di Bitcoin che ci aspettiamo per l'anno prossimo nessuno ha dubbi che andrà bene, ovviamente tra quelli che sostengono Bitcoin come investimento, questo è chiaro. Una piccola news che possiamo aggiungere a queste che hai dato, Cartwright, uno dei più grandi asset manager in ambito pensionistico inglese, ha cominciato a investire anche in Bitcoin e ha creato un prodotto che investe il 3% in Bitcoin. Questo può sembrare magari poco il 3%, ma per un fondo pensionistico è moltissimo, perché comunque è un tipo di investimento abbastanza volatile, ma fa capire che la finanza si sta muovendo in quella direzione, come il mondo sta di fatto adottando Bitcoin come un asset finanziario tradizionale e questo lo rende molto più solido. E questo divario è quello che sta succedendo di fatto tra Bitcoin e le altre criptovalute, quelle che vengono chiamate le altcoin. E questo divario ad oggi sembrerebbe incolmabile, di fatto. Perfetto, innanzitutto Simone grazie per l'analisi. Adesso andrai a vedere anche, insomma, l'evento più della giornata, non possiamo non parlarne, inizieranno tra pochissimo la giornata del voto negli Stati Uniti, quindi tra pochi giorni, sapremmo insomma chi sarà il nuovo inquilino della Casa Bianca. Volevo capire se era un market mover anche per le criptovalute, un po' come per i mercati azionari oppure no. Sì, sicuramente sì, appunto quello che si prevede è un'oscillazione addirittura del 10%, in negativo o in positivo. È un aspetto importante soprattutto di fiducia nei mercati, oltre al fatto che probabilmente già la politica finanziaria sta diventando più espansiva. Trump potrebbe permettere anche di renderla ancora più espansiva nei prossimi anni e la politica a favore delle criptovalute in generale l'ha promessa, ma l'ha anche mantenuta durante la sua politica da Presidente degli Stati Uniti. C'è stato un freno tanti anni. Probabilmente effettivamente ci sarà una differenza sostanziale se agli elezioni vencerà Trump rispetto al Partito Democratico, ma dall'altra parte Kamala Harris ha detto che anche lei tutelerà questo tipo di investimenti, riconoscendoli come importanti per l'economia americana. Però è evidente che i trader si aspettano e sperano la vittoria di Trump, questo sia nel mercato azionario, esattamente come nelle criptovalute. Però ripeto, mentre sarà a breve termine sicuramente un catalizzatore importantissimo e che cambierà lo scenario dei prossimi tre mesi, non credo che a livello di 12 mesi farà veramente la differenza. Il trend è positivo e continuerà a essere positivo. Di questo io sono abbastanza certo e c'è anche abbastanza fiducia nei mercati in questo momento. Lo dimostra il fatto che comunque a pochi giorni dalle elezioni, settimana scorsa, Bitcoin ha raggiunto il massimo storico e questo è importantissimo in un momento comunque instabile che è questo. Vediamo che nel mercato azionario non è andato esattamente così settimana scorsa, quindi evidentemente c'è più fiducia da questo lato rispetto a quello della finanza tradizionale. Perfetto, Simone, c'è qualche notizia di rilievo prima di salutarci? In questa settimana qualche altro market mover da seguire oppure questi sono i punti fondamentali? Una piccola news. Ton, che è il token lanciato da Telegram, ha cominciato a investire in ambito di finanza decentralizzata, DeFi, e ha lanciato dei contest per raccogliere i team migliori per lavorare al prodotto che stanno per lanciare e a quanto pare investiranno parecchio in quella direzione, anche con dei bridge che permettono di passare da rete Bitcoin, da rete Ethereum e vedremo pure quali altre rete ci saranno. Di fatto quindi comincia a prendere forma il progetto Ton, al momento era un token lanciato su Telegram, con wallet integrato su Telegram. Ancora non era chiara quale fosse la direzione, ma era prevedibile che sarebbe stata quella finanziaria. Ora con i passi che sta facendo lo dimostra. È un token alternativo rispetto a Bitcoin da tenere d'occhio ed è interessante come progetto soprattutto perché il grosso del mondo delle criptovalute su news community si muove su Telegram, quindi gli utenti gestano là. Concludo con una piccola nota di colore. Oggi Ethereum compie 11 anni e il suo white paper compie 11 anni. Quindi 11 anni fa è stato presentato il progetto che di fatto ha un po' cambiato il mondo delle criptovalute perché ha introdotto il concetto dello smart contract che all'epoca era possibile fare solo su Ethereum, adesso è possibile anche su altre criptovalute, compreso Bitcoin. E di fatto ha un po' cambiato il modo in cui veniva approcciata la blockchain. Il mercato non ha proprio apprezzato questa notizia oggi, non è che l'abbia apprezzata in nessun modo, però così lo ricordiamo perché effettivamente ha cambiato la faccia della blockchain. Perfetto, Simona io ti ringrazio moltissimo come sempre per essere stato con noi, ti auguro una buona settimana e ti do appuntamento a martedì prossimo. Grazie ancora. Grazie. Noi invece ci torniamo qualche secondo dopo l'analisi delle criptovalute e torniamo tra pochissimo con una nuova intervista sempre qui su You Capital 24. Grazie. 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 Grazie.